A vingere il 58esimo Festival Internazionale del Folclore, nell'ambito della 68esima Sagra del Mandorle in Fiore, è il Gruppo della Colombia. A consegnare il trofeo ai vincitori è stato il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, la presenza degli assessori regionali Nelli Scilabra e Mariella Lobello. Gli spettacoli conclusivi della Sagra del Mandorle in Fiore, a causa del maltempo, si sono trasferite dal Tempio della Concordia al Teatro Pirandello. Tra freddo, piogge e lamentele da parte dei cittadini che si aspettavano l'arrivo in città di più gruppi folcloristici provenienti da ogni parte del mondo, si è conclusa la Sagra del Mandorle in Fiore, che da oltre mezzo secolo è l'evento che caratterizza la città dei Tempri nel mondo.